fin dalle epoche più antiche le gesta dei grandi amatori hanno affascinato la fantasia di poeti drammaturghi romanzieri l'epica seduzione di paride il tenebroso fascino di don giovanni gli ardori dell'irresistibile casanova sono divenuti leggendari oggi nell'epoca delle bombe e delle bimbe atomiche canteremo le straordinarie imprese di un novello conquistatore di cuori femminili dell'inarrivabile don peppino che con uno sguardo travolge incendia magnetizza con turba incenerisce l'animo delle donne tu sei prevenuta contro di me e io sono un artista che ti guarda nell'animo e il tuo animo ha bisogno di un artista per sentirsi fiorire dove hai detto che me guardi tu nell'animo il bossino cieca a me se me ne raccorta signore e signori vi presentiamo che la la che la la ho va dicendo che a me buona sa se crede che a me faccio sangamare se crede che a me pazzi che può me sparere Uvanda aspettando che ha dicono sì dimmi sì dimmi sì dimmi sì dimmi sì dimmi sì Ti ringrazio che cominciamo la polizia, sa? Ma prego, ti prego, non ti compromettere! Io sono stato gentile, ho avuto molta pazienza con te, ma non sono uno stupido. Cerca di essere gentile anche tu. Oh, scusate. Non mi avrei mai detto di essere sposato. E chi è sposato? Io? Io ho due sorelle. Ma che cosa dici? Non sono sposato in Italia, ma io lo so, all'estero sì. Sì, a Svezia, a Norvegia, da rimarca, i paesi alti, i bassi, l'euro-tom. Scapolo? Sì. Senza figli? Sì, è di professione. Vittore. Tu si vede? Ma non faccia il credino, so benissimo chi è lei. E allora lo schiaffone che lo dà da quell'altro, eccolo, pure rimbambito. Ma il nostro inguagliatissimo eroe non disarma e va all'attacco verso l'ultima e più ambita conquista. Ma che fa? Ti finge al buio? E per Dio, sono la vittore scurantesta. Io ti vingo le ombre. Papà! Non c'è nessuno! E mi ha deciso in quattro invece. Avanti, aprite! Perciò sta canzum cella, caicando a te, e na serena te la, Shoo-wee, 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 shoo-wee. Grazie a tutti.